Ciao amici in questo video vi parlo di un kit di telecamere da esterno di marca Zosi. So che è un kit per la videosorveglianza che stavate aspettando perché ha risoluzione 4k e dispone di intelligenza artificiale in grado di riconoscere le persone. Sarà quindi in grado di evitare i falsi allarmi? Le telecamere sono POE, significa che le dobbiamo collegare all'NVR tramite un cavo. Il cavo serve sia per la trasmissione dei dati sia ad alimentarle. Nell'NVR è già montato un hard disk da 2 terabyte che non dobbiamo quindi acquistare a parte. Se sei interessato alla tematica della videosorveglianza e della sicurezza ti invito ad iscriverti al canale perché ne parlerò spesso. Vediamo il contenuto della confezione. Troviamo 4 telecamere POE, 4 cavi POE, 4 set di viti e tasselli, adesivi che ci dicono dove praticare i fori per fissare appunto le telecamere, manuali delle istruzioni anche in italiano, NVR ad 8 canali con integrato un hard disk da 2 terabyte, alimentatore per l'NVR, da 48 volt 2 ampere, cavo HDMI, cavo ethernet per l'NVR, un mouse cablato, adesivi security system. Vediamo le caratteristiche delle telecamere e dell'NVR ma cominciamo dai cavi. Sono di categoria 5e, permettono di gestire una velocità massima di 1000 megabit al secondo. Sono lunghi circa 18 metri. Nel lato frontale dell'NVR troviamo 3 led di stato, alimentazione, connessione ad internet e stato dell'hard disk. Troviamo inoltre una porta USB di tipo A. Sul retro troviamo uscita audio, porta VGA, presa HDMI, porta ethernet, altre due porte USB di tipo A 2.0, otto porte POE. Nella confezione troviamo quattro telecamere ma gli possiamo collegare otto telecamere in tutto. Presa per l'alimentazione e pulsante di accensione e spegnimento. Le telecamere sono solide massicce, è sufficiente prenderle in mano per capire che abbiamo a che fare con un prodotto di qualità. La struttura è completamente d'acciaio, anche la base di fissaggio e il braccio di supporto. A seconda di come posizioniamo il braccio, possiamo ruotarla verso sinistra, verso destra, verso l'alto o verso il basso. Per bloccarla nella posizione desiderata ruotiamo il fermo e la classica telecamera bullet la possiamo fissare alla parete o anche appendere al soffitto. Nel lato anteriore troviamo il led di stato obiettivo, due led per la visione notturna a infrarossi o a colori, poi proviamo entrambe le modalità e il forellino per il microfono. La griglia dell'altoparlante è posizionata sotto. La protezione del connettore è già montata sul cavo. Una volta chiusa la tenuta è stagna. Passiamo all'installazione e alla messa in funzione dell'impianto. L'installazione di un kit PoE è abbastanza semplice se avete già un impianto predisposto, altrimenti sarà più semplice installare un kit wifi che però non è sicuro come un kit PoE. Questo perché il segnale wifi può venire manomesso e quindi essere messo KO. Colleghiamo quindi le telecamere all'NVR utilizzando i cavi Ethernet. Colleghiamo l'NVR al router sempre con un cavo Ethernet. Colleghiamo l'NVR ad una TV o uno schermo con un cavo HDMI o VGA. Colleghiamo il mouse ad una porta USB. Allimentiamo l'NVR e accendiamolo. Verifichiamo che tutto funzioni a dovere e appendiamo le telecamere al muro. È consigliabile far correre il cavo in una canalina interna alla parete o, se non è possibile, va bene anche una canalina esterna. Vediamo quindi come configurare l'impianto. Diamogli un nome. Scegliamo la lingua, nel nostro caso Italia. Impostiamo il formato della data e dell'ora. Al momento VGA l'ora estiva quindi spuntiamo GMT più 2. In inverno spuntiamo invece GMT più 1. Non è necessario impostare data e ora. Rifinitura. Le telecamere sono già collegate e visualizziamo le registrazioni in diretta. Bene. Clicca con il pulsante destro del mouse. Menù principale. Per il login lasciamo come username admin e non inseriamo nessuna password. Entra. Andiamo in setup. Di base. Sezione data e ora. Spuntiamo sincronizzazione del tempo con server NTP. Clicca su applicare. Usciamo. Usciamo ancora. Data e ora si aggiornano così in automatico. Clicca ancora con il pulsante destro del mouse. menu principale. Aggiornamento. In questo caso non ci sono aggiornamenti del firmware altrimenti installiamoli. Torniamo alla schermata principale. Le telecamere si chiamano camera 01, camera 02 e camera 03 e così via. Per personalizzare i nomi andiamo sempre in menu principale. Setup. Vivere. La telecamera numero 3 è quella che ho messo in giardino. Proviamo a modificarne il nome. Quindi cancelliamo camera 03 e scriviamo giardino. Enter per confermare. Applicare. Torniamo al menu principale. Ed ecco che la telecamera si chiama appunto giardino. Vediamo le principali funzioni e impostazioni. singolo per visualizzare solo un canale. Scegliamo quello che vogliamo vedere. Con multi visualizziamo invece più canali. Anche in questo caso scegliamo quali vogliamo vedere. Prendiamo ad esempio dal numero 1 al numero 6. Eccoli qua. Possiamo trascinare e spostare i canali nel riquadro che vogliamo. Con colore possiamo impostare i parametri delle immagini. Luminosità, colore, saturazione e contrasto. Quelli standard vanno benissimo. Troviamo lo zoom. Possiamo selezionare il fattore di ingrandimento. 4x oppure 8x. Proviamo il 4x. Passiamo all'8x. Lo zoom è digitale ma ha la risoluzione molto alta e sgrana poco. Possiamo regolare il volume o impostare muto così non viene riprodotto. Snap. Scatto uno screenshot dello schermo. Per visualizzare le immagini salvate andiamo in menu principale. Ricerca. Immagine. Impostiamo date e ora del periodo di nostro interesse e le telecamere di cui vogliamo visualizzare le immagini. Ricerca. Ed ecco qui le immagini che sono state salvate. Questa è quella di poco fa. Clic su inizio della registrazione per registrare 24 ore su 24 7 giorni su 7 il canale che abbiamo selezionato. Con riproduzione. Riproduzione video. Possiamo visualizzare le registrazioni. Troviamo la classica barra del tempo orizzontale. Tramite il calendario possiamo selezionare il giorno di nostro interesse. Possiamo anche selezionare i canali che vogliamo visualizzare. Fatta la selezione clicchiamo su ricerca. La barra del tempo viene così aggiornata. I segmenti azzurri sono le registrazioni. Possiamo visualizzare solo le registrazioni di un canale. Ad esempio del canale numero 1. O di più canali. In questo caso di tutti e quattro i canali. Rimaniamo in questa modalità. Posizioniamoci sulla barra del tempo nel momento che vogliamo riprodurre. Compare anche l'ora di inizio. Premiamo play per avviare la riproduzione. In basso troviamo diversi pulsanti. Play pausa. Visualizza il frame precedente. Frame successivo. Avanti veloce. Indietro veloce. Possiamo spostarci manualmente nel tempo. Mettere muto. O avviare la riproduzione dell'audio di un canale alla volta. Con la X usciamo dalla riproduzione delle registrazioni. Passiamo alla sezione ricerca evento. Possiamo guardare le riprese che sono state effettuate quando le telecamere hanno rilevato un movimento, una figura umana oppure un movimento e una figura umana. Anche in questo caso possiamo selezionare il canale di cui le vogliamo visualizzare. Io prendo soltanto il canale numero 3 e la telecamera che ho messo in giardino. Proviamo a riprodurre un filmato. Eccomi qua. Eroio mi ha correttamente individuato. In fase di test vedremo se l'intelligenza artificiale è precisa nell'evitare i falsi allarme. Torniamo indietro, anzi usciamo. Passiamo alla sezione immagine. Anche qua facciamo le nostre impostazioni per quanto riguarda il periodo di tempo e i canali di cui vogliamo visualizzare gli screenshot. Ricerca. E troviamo appunto le varie immagini. Inseriamo in una porta usb una chiavetta di memoria. Per verificare che sia stata riconosciuta andiamo in menu, menu principale, gestione disco. Se non compare nulla nella seconda riga clicchiamo aggiorna. Il primo disco è quello interno all'NVR. Possiamo eventualmente formattarlo. Nella seconda riga compare la mia chiavetta usb. Abbiamo tipo usb. Ha una capacità di 3,74 gigabyte. Lo stato è normale. Torniamo indietro. Per salvare uno più registrazioni clicchiamo su di riserva. Si capisce che questa è la funzione perché c'è una freccetta che punta verso il basso. Sta a significare download. Anche qua selezioniamo data e ora di inizio e di fine del periodo di nostro interesse. Selezioniamo i canali di cui vogliamo vedere le registrazioni e clicchiamo su ricerca. Le registrazioni vengono presentate in un elenco. Selezioniamo la registrazione o le registrazioni che vogliamo appunto salvare. Clicch su di riserva. Come supporto ci viene proposta la chiavetta usb. I file vengono salvati nel formato avi. Clicch su inizio. E i file vengono appunto salvati sulla nostra chiavetta o comunque sulla nostra unità di memoria. Vediamo ora come impostare le registrazioni. Andiamo in menu principale. Setup. Piano. Nella prima sezione piano per ogni canale impostiamo giorni e fasce orarie in cui le registrazioni devono essere salvate. I rettangoli azzurri sono i periodi in cui il salvataggio è attivo. In quelli blu il salvataggio non è attivo. Di default è sempre attivo. Clicchiamo sulla gomma, questa, per disattivare le registrazioni in determinati periodi. Per riattivarla clicchiamo sull'icona di fianco alla gomma. E andiamo a colorare di nuovo i rettangoli di azzurro. In alternativa, deselezioniamo queste due icone, doppio clic sulla barra del tempo con il pulsante sinistro del mouse. Per ogni giorno possiamo inserire manualmente diverse fasce orarie in cui la registrazione deve essere attiva. Come prima cosa cancelliamo la registrazione continua e inseriamo le fasce orarie che vogliamo. Ad esempio, si lasciamo così, facciamo registrare fino alle 5 e 59. Poi non facciamo registrare più e facciamo riprendere la registrazione diciamo dalle 22 alle 23 e 59. Ok, bene per confermare e le impostazioni che abbiamo fatto vengono rappresentate graficamente nella barra del tempo. Nella sezione mozione impostiamo invece canali, giorni e fasce orarie in cui vogliamo che vengano salvate le registrazioni dei momenti in cui viene rilevato un movimento. Procediamo come abbiamo visto prima. In rilevazione umana il sistema salva la registrazione quando rileva una figura umana. Utilizza quindi l'intelligenza artificiale che metteremo poi alla prova. Vediamo ora le impostazioni relative agli allarmi. Andiamo in menu, menu principale, setup, allarme. Cominciamo da mozione che sta per movimento. Spuntiamo per mettere per attivare questa modalità. Possiamo attivarla solo per alcuni canali oppure per tutti i canali. Il tempo di mantenimento è il tempo espresso in secondi che deve trascorrere dopo che viene rilevato un movimento, prima che cessi l'allarme. Nel nostro caso, quando la telecamera non rileva più nessun movimento, l'allarme continua appunto per 10 secondi. Vediamo quali sono questi allarmi. Andiamo nella colonna Trigger Impostazione. Spuntando Cicalino, l'NVR emette un suono. Possiamo visualizzare a schermo intero le riprese della telecamera che ha rilevato il movimento oppure quelle di un'altra telecamera. Insomma, possiamo visualizzare a schermo intero le riprese di una telecamera a nostra scelta. Il sistema può informarci tramite email che è scattato appunto l'allarme. Snap, l'abbiamo visto prima, per scattare una fotografia del momento in cui è stato rilevato il movimento. Sezione per registrare, lasciamo spuntato il canale, così verrà salvato il filmato della telecamera che ha visto il movimento. Vi dico subito che con il movimento, probabilmente, abbiamo tanti falsi allarmi. In Impostazione Zona possiamo escludere determinate aree dalla rilevazione del movimento. Il movimento viene rilevato in tutta l'area coperta dalla griglia, di default quindi nell'intera inquadratura. Nelle aree in cui non vogliamo che venga rilevato il movimento, dobbiamo cancellare la griglia. Passiamo sopra l'area da cancellare tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse. Ok, in quest'area quindi non verrà rilevato il movimento. Quando abbiamo terminato, clic con il pulsante destro del mouse, salviamo e usciamo. Per ogni telecamera possiamo settare trigger e impostazioni diverse. Nella sezione Piano, per ogni canale, possiamo impostare giorni e orari in cui deve essere attivo il rilevamento del movimento. È tutto come prima, anche in questo caso nei rettangoli azzurri il rilevamento del movimento è attivo, in quelli blu invece non è attivo. Anche in questo caso possiamo impostare manualmente i valori. Da mozione passiamo a rilevazione umana. Rilevazione umana utilizza l'intelligenza artificiale per rilevare le persone. È una tecnologia molto più efficace della rilevazione del movimento. Le impostazioni sono le stesse che abbiamo visto prima per la rilevazione del movimento. Ok. Possiamo quindi far scattare l'allarme quando viene rilevato un movimento oppure una figura umana. Le telecamere integrano misure di difesa attiva. Una sirena e una luce che devo dire è davvero accecante. Andiamo in allarme suono and luce per impostarle. Spuntiamo permettere per attivare le misure nelle telecamere che vogliamo. Possiamo attivare entrambi, quindi sia la sirena sia la luce. Solo la luce o solo la sirena. La sirena ha due opzioni. Suono forte e suono morbido. Come evento che fa scattare l'allarme consiglio di selezionare umano oppure movimento e umano. Possiamo impostare la visione notturna a colori in bianco e nero oppure intelligente. Poi proviamo tutte e tre le modalità. Regoliamo il volume della sirena al massimo. In video loss impostiamo le azioni che deve compiere il sistema nel caso venisse a mancare il collegamento con le telecamere. Ogni telecamera può avere impostazioni personalizzate. Vediamole. Possiamo fare mettere un suono al cicalino. Visualizzare un canale a tutto schermo. Ricevere un'email di notifica. Passiamo a altro allarme. Si riferisce all'eventualità in cui il disco rigido fosse pieno. Si verificasse un conflitto IP ma non ci dovrebbe riguardare perché il kit è poi non wifi. Disconnect si riferisce all'eventualità in cui l'NVR perde la connessione a internet. Disco perso se l'NVR non trova più l'hard disk. Come azioni abbiamo sempre il cicalino interno all'NVR e la notifica via email. Possiamo anche impostare una soglia superata la quale il sistema ci informa che la memoria dell'hard disk è quasi esaurita. È un aspetto che non ci dovrebbe preoccupare. Torniamo indietro. Andiamo in registrazione. Sezione riciclare registrazione. Assicuriamoci che sia spuntato riciclare registrazione. Così le registrazioni più datate vengono sovrascritte da quelle nuove. In permettere teniamo spuntato per tutti i canali registrazione. Altrimenti le registrazioni non vengono salvate. Possiamo non registrare l'audio togliendo appunto la spunta ad audio. La risoluzione 4K ed è quindi eccezionale. Gli fps non sono molti ma essendo la qualità 4K 20 vanno più che bene. Queste sono le principali funzioni e impostazioni. Diamo un'occhiata anche a quelle secondarie. Mi rendo conto che al primo impatto l'interfaccia sembra complicata ma dopo qualche utilizzo vi sarete ambientati e questo video mi auguro che vi sia di aiuto. Nella sezione setup vi segnalo anche rete. Clic su prova e abbiamo la conferma che l'NVR è online. In email possiamo impostare un server SMTP da utilizzare per inviare le email. Non è difficile ho già realizzato un tutorial per il kit di un'altra marca. Se avete problemi scrivetemi un commento così faccio un video in cui spiego come impostarlo per Gmail. In utenti aggiungere possiamo creare nuovi utenti assegnandogli una username e una password. Possiamo anche in autorità impostarne i privilegi. In avanzato possiamo ripristinare le impostazioni di fabbrica. In informazioni troviamo appunto le informazioni sul sistema. Il log degli eventi. Il log degli utenti. Il log degli utenti. Il log degli utenti. Il log degli utenti. il kit dispone di app si chiama zosi smart la troviamo nell'app store come prima cosa creiamo un account io l'ho già fatto non è assolutamente difficile per associarla all'nvr tap sul più aggiungi dispositivo registratore analogico hd scansione il codice qr scansioniamo il codice qr che troviamo sull'nvr il dispositivo viene così trovato in alternativa torniamo indietro sempre aggiungi dispositivo sempre registratore analogico hd scansione il codice qr tap su ricerca locale lo smartphone per utilizzare questa modalità deve essere collegato alla stessa rete a cui è collegato anche l'nvr ecco che compare l'nvr selezioniamolo diamogli un nome lasciamo quello che compare next ancora next fatto tap su finito visualizziamo così tutte le telecamere tap su una telecamera visualizziamo in questo modo la diretta possiamo avviare la comunicazione audio a due vie poi la proviamo possiamo salvare un istantanea della diretta o un filmato sempre della diretta torniamo indietro possiamo cambiare modalità di visualizzazione e passare all'orientamento orizzontale torniamo indietro indietro ancora vediamo le impostazioni l'accesso al sistema può essere condiviso con altri notifica di avviso spuntiamo notifica di avviso per ricevere le notifiche push in metodo di avvertimento per ogni canale possiamo gestire gli allarmi possiamo ricevere una notifica quando la telecamera riconosce una figura umana o rileva un movimento possiamo anche tenere attive entrambe le opzioni torniamo indietro in allarme sonoro e luminoso attiviamo le misure di difesa delle telecamere selezioniamo un canale spuntiamo un allarme chiave per attivare una sirena integrata nella telecamera è bella potente spuntiamo allarme sonoro e luminoso per far sì che la telecamera attivi le misure di difesa quando scatta l'allarme quali sono queste misure lo abbiamo già visto prima sirena più accensione faretto solo faretto oppure sirena con suono forte o sempre sirena con un suono più tenue torniamo indietro possiamo regolare il volume tipo di allarme sono gli eventi che attivano le misure di difesa attiva anche questi abbiamo già visti nell'interfaccia dell'nvr rilevamento di una figura umana un movimento oppure rilevamento del movimento e di una figura umana torniamo indietro modalità visione notturna possiamo appunto impostare la modalità di visione notturna anche qui troviamo quella colori a infrarossi quindi in bianco e nero e la modalità intelligente le impostazioni che effettuiamo da app vengono recepite e salvate nell'nvr torniamo indietro ancora indietro possiamo poi riavviare l'nvr ed eliminarlo dalla app torniamo indietro in riproduzione troviamo le registrazioni selezioniamo il canale di nostro interesse apriamo il calendario e selezioniamo la data di nostro interesse impostiamo anche l'ora da cui vogliamo visualizzare le registrazioni confermiamo le registrazioni vengono caricate scorrendo la barra possiamo spostarci nel tempo possiamo velocizzare la riproduzione salvare un fotogramma o una sequenza quindi un filmato ovviamente delle registrazioni storiche nel menu in basso selezioniamo la sezione messaggio troviamo le notifiche dei momenti in cui è stato rilevato un movimento vediamole prendiamo questa ad esempio viene visualizzata l'istantanea del momento in cui è stato rilevato il movimento e possiamo riprodurre il filmato di quel rilevamento intelligente sono invece le notifiche di quando è stata rilevata una figura umana anche in in questo caso troviamo la foto di quel momento e possiamo riprodurre il filmato troviamo infine le notifiche di sistema in media troviamo le istantanee e i filmati che abbiamo salvato troviamo infine il negozio dell'azienda tap sul nostro profilo segnalo in particolare uno strumento diagnostico lo possiamo avviare per verificare che sia tutto ok il sistema dispone anche di un software per pc lo possiamo scaricare nel sito della azosi vi lascio il link qui sotto in descrizione è disponibile sia per mac sia per windows per accedere ci viene chiesto il nome utente e la password usiamo gli stessi dati che abbiamo utilizzato per creare il nostro account nell'app l'nvr viene visualizzato automaticamente lo troviamo appunto online potrebbe figurare offline in tal caso clicchiamo su un qualsiasi canale possiamo così visualizzare la diretta delle telecamere se invece non ci siamo registrati alla app per aggiungere l'nvr consiglio di collegare il pc alla stessa rete a cui è collegato anche l'nvr andiamo su aggiungi dispositivo cerca il dispositivo il dispositivo viene trovato ne dobbiamo confermare l'aggiunta io non lo faccio perché appunto è già stato associato sul software non voglio spendere troppe parole troviamo appunto la sezione questa in diretta per vedere la diretta delle telecamere e la sezione riproduzione dove possiamo visualizzare le registrazioni selezioniamo il canale di nostro interesse io prendo il 3 ad esempio troviamo sotto un calendario selezioniamo il giorno di nostro interesse rimaniamo sempre alla data di oggi il 3 di aprile sotto troviamo la barra del tempo posizioniamoci sull'ora che vogliamo riprodurre play per avviare appunto la riproduzione segnalo in particolare che la barra del tempo questa qui sotto è divisa in due sotto troviamo le ore quindi una due tre quattro e così via e nella parte superiore i minuti quindi ad esempio se vogliamo vedere le 13 e 30 posizioniamoci sotto sulle 13 e sopra selezioniamo 13 30 ecco qua questo è un esempio di ripresa di urna la risoluzione 4k nello specifico è ultra hd la larghezza dei fotogrammi è infatti di 3840 pixel l'altezza di 2160 pixel la scritta risulta ben visibile fino a parecchi metri di distanza i video occupano poco spazio essendo compressi con lo standard h265 lo stesso del nuovo digitale terrestre anche l'ampiezza dell'angolo di visione non delude la porzione laterale del giardino viene per buona parte inquadrata ho provato a correre davanti alla telecamera per analizzare il livello di fluidità delle immagini mettendo in pausa la riproduzione del filmato il soggetto in movimento è immortalato in maniera definita i fotogrammi al secondo sono 20 non sono pochi considerando l'altra risoluzione mettiamo alla prova il vdr la gamma dinamica ossia la capacità delle telecamere di vedere dettagli contemporaneamente in aree molto chiare e in aree scure della scena in casa gli oggetti sono ben distinguibili all'esterno gli alberi sono abbagliati dalla luce del sole e i tratti sono indistinti ho provato ad uscire dalla finestra i miei tratti rimangono definiti finché rimango all'ombra del portico poi in pieno sole non sono più riconoscibile i faretti integrati nelle telecamere forniscono un'ottima luminosità con un consumo contenuto l'intero kit assorbe infatti al massimo solo 96 watt questo è un esempio di visione notturna con il faretto attivo anche la visione notturna in bianco e nero è eccezionale anche la visione notturna in bianco e nero è eccezionale gli infrarossi hanno un'elevata profondità di visione e consentono di monitorare ampi spazi nelle telecamere è integrato un microfono che consente di registrare l'audio proviamolo da diverse distanze qui sono al palo della sicurezza se mi sentite da questa distanza è un buon microfono vado più indietro sono in fondo all'ordine se mi sentite da questa distanza è un ottimo microfono le telecamere integrano un microfono e un altoparlante il sistema consente la comunicazione audio a due vie sto provando questa modalità con gloria a cosa serve? serve per parlare dall'ufficio o da un altro luogo con chi come in questo caso sta in giardino di fronte alla telecamera in menu principale setup allarme allarme suono and luce impostiamo il canale 3 la telecamera che ho in giardino selezioniamo in allarme entrambi forte quindi sia la sirena sia il faretto visione notturna intelligente regoliamo il volume al massimo come tipo di allarme faccio una prova prima con umano e poi con movimento e umano come vedete è giorno in tipo di allarme ho selezionato umano vediamo da che distanza mi rileva la telecamera ottimo prima del palo molto bene ed ecco che mi è arrivata anche la notifica push molto bene ripetiamo la prova questa volta come tipo di allarme ho selezionato movimento e umano vediamo cosa succede ok sono un po più vicino di prima notifica push strepitosa mi è già arrivata anche questa volta eccola qua qua ho anche un commento di youtube comunque la notifica push è questa istantanea ho impostato come tipo di allarme umano la visione della telecamera è in bianco e nero vediamo da che distanza mi rileva eccola qua eccola qua come tipo di allarme ho lasciato impostato umano la visione questa volta è a colore infatti il faretto è acceso vediamo da che distanza mi rileva siamo pressa poco alla distanza di prima andiamo in menu principale setup piano sezione rilevazione umana ho impostato il canale 2 perché vengono salvate le registrazioni quando viene rilevata una figura umana nella sezione mozione quindi movimento ho fatto la stessa identica cosa usciamo andiamo in menu principale ricerca ricerca evento prendiamo ad esempio la giornata del 4 maggio selezioniamo solo le registrazioni del canale numero 2 ricerca abbiamo sei pagine di registrazioni togliamo il flag a mozione così le notifiche di movimento non vengono visualizzate teniamo invece spuntato rilevazione umano ricerca ricerca le notifiche del solo movimento non sono tantissime i risultati occupano infatti lo stesso sei pagine qualche riga comunque è sparita vediamo velocemente le registrazioni ho già controllato e sono veritiere sono tante perché in brianze appena iniziata la stagione agricola cominciamo dalla prima 10 47 c'è qualcuno torniamo indietro saltiamo poi alle 11 04 anche qua c'è qualcuno passiamo alle 11 29 01 anche qua c'è qualcuno anche qua c'è sempre qualcuno anche qua c'è qualcuno anche qua c'è qualcuno anche qua c'è qualcuno 11 38 uguale pagina successiva andiamo alle 11 54 c'è sempre qualcuno 11 58 e 19 uguale passiamo alle 12 mezzogiorno uguale ancora saltiamo quindi alle 12 12 ok passiamo poi alle 13 25 c'è sempre qualcuno qua nell'angolo a destra pagina successiva 13 30 qua sembra che non ci sia nessuno ma 13 30 e 19 c'è qualcuno quindi deve essere uscita velocemente dall'inquadratura ok consideriamola comunque veritiera passiamo alle 14 04 c'è sempre qualcuno balziamo alle 14 17 uguale saltiamo alle 14 43 ok 14 57 uguale pagina successiva siamo alla 4 vediamo alle 15 10 c'è sempre qualcuno saltiamo alle 15 12 ok balziamo alle 16 28 ok ancora 16 31 ok pagina successiva pagina successiva siamo alle 16 46 va bene 16 55 ok passerelle 17 37 va bene 19 57 ero io siamo ora alla sera 21 e 12 eccomi che facevo dalle prove 21 e 13 sempre io 21 e 14 qua ero sempre io beh c'ero vi assicuro devo essere uscito dall'inquadratura poco prima vediamo 14 55 eccomi qua quindi nel complesso sono tutte veritiere le telecamere sono da esterno facciamo quindi la prova della secchiata d'acqua in conclusione questo kit è sicuramente un garagulp nella confezione troviamo tutto l'occorrente per essere subito operativi l'installazione è semplice ma è opportuno avere un impianto murario predisposto l'interfaccia è completa e dopo aver visto questo video non avrete problemi ad utilizzarla possiamo registrare 24 ore su 24 oppure solo quando viene rilevato un movimento o una persona le telecamere dispongono di misure per la difesa attiva possiamo accedere all'impianto tramite app e software per pc la qualità delle immagini è alta le telecamere supportano la visione notturna infrarossi a colori le telecamere possono registrare l'audio ed è supportata la comunicazione a due vie l'intelligenza artificiale davvero intelligente riesce ad evitare i falsi allarmi se il video ti è piaciuto non dimenticarti di iscriverti al canale le telecamere 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 le telecamere